È un anno che non andiamo più a museo, i cinema sono chiusi, i teatri, i centri culturali, insomma la cultura sta soffrendo, ma dobbiamo chiederci qual è il valore della cultura per la nostra società e soprattutto come il museo, che era qualcosa di vecchissimo, può diventare qualcosa di presente nelle nostre giornate, nelle nostre vite. Allora con noi per la challenge sul tema cultura e musei abbiamo Maurizio Vanni, direttore generale del Luca Center Contemporary Anza. Sara e Gabriele, grazie, presentazione fantastica. Mi sono emozionato, ho voglia di tornare studente, ho voglia di fare la challenge in mezzo ai ragazzi, perché ci vuole questo entusiasmo, questa carica e capitalizzare la sfida è il momento giusto. Musei e cultura sono pronti, dobbiamo riscriverlo questo futuro, dobbiamo tornare artefici del nostro destino. Semplicemente non dimentichiamo il passato, siamo tutti in sofferenza, sotto pressione, un po' di stato di ansia c'è, ma c'è una gran voglia di vita e una grande voglia di ripartire e la cultura è pronta ad accogliere innovazione, ad accogliere idee, ad accogliere un nuovo lavoro sinergico e in team. Attenzione, i team devono essere interdisciplinari, devono essere aperti a collaborazione. Adesso più di sempre dobbiamo lavorare fianco a fianco, dobbiamo realmente costruire per rispondere a nuove esigenze. I musei sono cambiati, i musei possono avvalersi di una nuova energia che risponde a un concetto molto semplice, un po' ispirato ai mondi orientali. Dopo un dramma, dopo una tempesta, si possono aprire grandissime opportunità e come ci hanno detto Gabriele e Sara, andiamo a cercare queste opportunità. I musei si sono ripensati, i musei hanno due strade direttrici che sono anche le due novità principali. Da una parte coinvolgere tutte le persone in modo eco, in modo etico, in modo responsabile, si aprono a tutti. Tutti vuol dire realmente le persone più fragili, le persone più vulnerabili, le persone che non hanno mai messo la cultura come priorità esistenziale. I musei adesso hanno il dovere di parlare a loro, di rimettere la persona al centro, esattamente come le aziende. si pensa, si ascolta e si propone un'offerta culturale su misura. Poi ci torniamo. Secondo passo fondamentale, si struttura una sfida, un progetto, seguendo le regole internazionali della crescita sostenibile. È interessantissimo perché oltre all'immancabile sostenibilità economica, i musei devono comunque autosostentarsi per completare i fondi che arrivano dalle pubbliche amministrazioni, ahimè, non più sufficienti. Quindi devono in qualche modo rispettare la promise di essere un servizio pubblico, ma al tempo stesso bellissime sono le responsabilità sociali dei musei, abbattimento completo delle barriere sociali. E poi anche quelle della sostenibilità ambientale. Pensate che il museo è la struttura più impattante di tutte, perché purtroppo, diciamo, ha sempre a che fare con consumo di energia elettrica e materiali non sempre a norma. Quindi oltre che rivedere questi aspetti, cercherà certamente di avere una relazione più interessante con la trasmettere la coscienza ambientale e poi la salute e il benessere e poi il colloquiare con il territorio. Insomma, un mondo incredibile che ci fa ripensare le funzioni del museo all'epoca contemporanea, né qui e ora. E queste funzioni, come vi dicevo, ai primi posti mettono il rivolgersi a tutte le categorie di pubblico. Ed ecco, ragazzi, la sfida. La sfida è quella di provare a coinvolgere tutti realmente le categorie, ma in modo particolare è quella più complessa, quella più, io dico vulnerabile, ma al tempo stesso con un potenziale enorme, la X-Gen e la Z-Gen, ovvero le persone che in qualche modo non trovano naturalmente stimolo dentro un museo. Pensano che il museo sia statico, sia polveroso, sia grigio, sia prevedibile. Ebbene, noi dobbiamo trascinare in qualche modo, con il sorriso, le giovani generazioni nei musei, creare dei pacchetti, delle proposte, delle offerte, creare dei meccanismi, creare delle piattaforme di benessere esperienziale, creare qualcosa che sia da una parte coinvolgente, convincente, dall'altra però, attenzione, questi ragazzi vanno fidelizzati, ovvero non è sufficiente creare semplicemente un'opportunità occasionale, ma è importantissimo cercare di entrare nella loro quotidianità, far diventare il museo un loro punto di riferimento, far diventare un museo anche uno spazio di co-working, far diventare il museo un luogo facile, agile, da frequentare tranquillamente e serenamente, ovviamente creando una sinergia tra persone esterne e persone interne. Penso che realmente i ragazzi di un certo momento storico e in questo momento hanno bisogno di essere rassicurati, di ritrovare identità, di ritrovare punti di riferimento. Ebbene, la sfida pensa proprio a questo. Cerchiamo delle strade, cerchiamo delle opportunità, cerchiamo guardando tanti comparti della conoscenza. Prima abbiamo parlato di interdisciplinarità. Ebbene, i musei si aprono non solo le arti visive, si aprono la musica, si aprono al teatro, si aprono la danza, si aprono a tutti i segmenti di conoscenza. Le possiamo usare veramente tutti. Ovviamente si aprono alle nuove tecnologie, all'innovazione. Possiamo comunque utilizzare i codici comunicativi più appropriati agli obiettivi che vogliamo intraprendere. Credo veramente che ci sia in atto una bellissima sfida. I musei hanno bisogno di voi. I musei hanno bisogno di idee. I musei hanno bisogno di nuova energia. I musei hanno bisogno di guardare tutto da ottiche diverse. E voi potete farlo. Voi potete essere la generazione giusta che non è contaminata, che non ha, spero, infrastrutture pesanti, che con entusiasmo voglia di vivere, voglia di intendere cultura come un qualcosa, ripeto, che può anche divertire, può far socializzare e può aprire nuove prospettive. Il museo diventa realmente una piattaforma interessantissima dove far incontrare le persone. E la sfida più bella, il museo, una volta che entra nella vostra vita, vi farà gridare ancora più forte, noi lamiamo la vita. Grazie Maurizio. Anche noi non attendiamo altro di vedere cosa saprete, come saprete rivoltare il museo, l'idea che di museo tutti abbiamo, eppure è da cambiare. Ecco. Servono le idee fuori dagli schemi. Pensare fuori dagli schemi è necessario per affrontare questo hackathon. Grazie mille Maurizio. Grazie. Grazie. Grazie.